Vai Giulie! Vai Giulie! Oh, ciao! Ehi! 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 Io da dentro adesso... Guarda... Guarda il nostro, eh! Il quattro, guarda il quattro! Si vede! Ehi! Ehi! A posto! A giuolette! Ehi! 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 Non torna però, no? Eh, appunto! Oh, via! Questa sfonda! Boh, 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 boh! Vai Dani! Allee! Sei lento! Sei lento! Sei lento! Oh! Oh! Che tipo di favore! Saccini misto guida la staffetta! Saccini misto! E troppi a mangiarsi a due e... Non c'è assente! Cado a tieni! Cado a tieni! Stiamo difendendo! Siamo difendenti! Dai paura! A Ia Lea! Allee! 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 Non c'è paragone ragazzi! e da sport time abbiamo Aspani Simona è ripreso anche lui via Roby si ma sono due ragazzi gli altri sta finendo la stampa vai Roby vai Roby ma si mette con l'onore grazie